Presentiamo la prossima finalista Ciao Alice, da dove vieni? Ciao a tutti, vengo da Pordenone Che cosa studi? Studio turismo a Sacile, vicino Pordenone Lo studio perché mi piacciono molto le lingue Che tipo di persona sei? Mi posso definire una persona molto semplice e allegra Vuoi fare un saluto? Sì, vorrei salutare in primis i miei genitori che mi sostengono Grazie Grazie a te